Ben ritrovati con l'informazione locale di Unica TV edizione di Sondrio. Vediamo insieme i nostri titoli di oggi. Le sondazioni in alta valtellina e trombe d'area in Val Chiavenna sono gli eventi meteorologici estremi in provincia di Sondrio. Nel corso del 2023, secondo uno studio di Lega Ambiente, il quadro è preoccupante. È di 500 milioni il bilancio di previsione dell'ATS e della montagna. Metà di questo è relativo a prestazioni di ricovero, previsti investimenti per tutelare un territorio con una popolazione sempre più anziana. La nuova Sondrio Calcio torna al lavoro dopo la pausa natalizia. La maggior parte dei giocatori si è ritrovata alla Castellina. Il direttore sportivo Salvadori, siamo forti, vogliamo vincere il campionato. Allora, vediamo i servizi di oggi. Il maltempo ha segnato la provincia di Sondrio anche nel 2023. Sono infatti due gli eventi di meteo estremo indicati nel report Clima Città, il progetto di Lega Ambiente che raccoglie e analizza tutti gli episodi di maltempo in Italia. Tra le date degne di nota dello scorso anno è segnata il 28 agosto, quando intense precipitazioni in Alta Valtellina provocarono l'esondazione del torrente Frodolfo in località Santa Lucia, alla confluenza con il fiume Adda nel territorio comunale di Val di Sotto e Bormio. Con l'evacuazione di una ventina di persone, a Val Furva l'esondazione dello stesso torrente portò all'allagamento di alcuni seminterrati di strutture alberghiere, portando all'evacuazione di 16 ospiti. L'altra data degna di nota è il 20 ottobre scorso, quando forti raffiche di vento in Val Chiavenna causarono danni ingenti nel comune di Piuro. Alcuni tetti delle case furono scoperchiati e molti alberi furono abbattuti. Inoltre si segnalarono piccole frane allagamenti con numerosi interventi dei vigili del fuoco. In generale in tutta Italia è stato un anno da bollino rosso per il clima, segnato da un trend in continua crescita degli eventi meteorologici estremi. Quest'anno gli eventi estremi sono saliti a quota 378, segnando un più 22% rispetto al 2022, provocando danni miliardari ai territori e la morte di 31 persone. In generale dunque il quadro tracciato dall'osservatorio di Lega Ambiente è decisamente preoccupante. Un bilancio che supera i 500 milioni di euro, la cui metà è relativa a prestazioni di ricovero ambulatoriali. Si tratta del bilancio di previsione dell'ATS della Montagna, approvato nei giorni scorsi appena prima del cambio dei vertici. Le altre voci riguardano il servizio farmaceutico territoriale ospedaliero, pari a 113 milioni di euro, le prestazioni sociosanitarie pari a 65 milioni e i medici di medicina generale e pediatri pari a 30 milioni di euro, ma anche le prestazioni sanitarie erogate direttamente pari a 7 milioni di euro. Un bilancio importante per il territorio di ATS della Montagna, che comprende 134 comuni suddivisi in tre province, Sondrio-Brescia con la Valcamonica e Como con l'Altolario. Sono in tutto 293 mila abitanti, di cui 195 mila in Valtellina-Altolario. ATS registra da anni una forte denatalità e un indice di invecchiamento superiore rispetto alla media regionale e nazionale. Il rapporto fra il numero dei residenti over 65 e gli under 15 vede 100 giovani ogni 199,4 anziani. Anche il tasso di mortalità è leggermente superiore a quello lombardo e nazionale. La direzione strategica uscente, guidata da Raffaello Stradoni, ha in questi anni concluso progetti molto significativi, alcuni avviati dalle precedenti direzioni. Alla nuova direzione, guidata da Vincenzo Petronella, che si è insediata il 1 gennaio, vengono consegnate importanti progettualità. Il polo di formazione per la medicina generale con sede sia a Sondrio sia a Breno, il progetto sperimentale della Centrale Unica di Continuità Assistenziale, la prima in Lombardia, la sperimentazione della telerefertazione, così come un progetto appena approvato dalla Giunta regionale, per la sperimentazione dei points of care testing nelle farmacie per le analisi presso le farmacie dei centri più periferici, ma anche le nuove sedi di ATS a Sondrio e a Breno e il nuovo laboratorio di prevenzione, unificato con l'Istituto Zooprofilattico di Sondrio, oltre a un articolato piano di promozione della salute con annessa attività di screening, come è stato comunicato nel corso dell'ottobre in Rosa, la stipula di nuove convenzioni con gli ambiti territoriali per il sostegno degli interventi a favore di minori vittime di abusi e gravi episodi di maltrattamento, senza contare l'ammodernamento costante delle tecnologie. Banca Popolare di Sondrio, come da tradizione, ha realizzato il fascicolo intitolato Cambi e Tassi 2023, che propone un'articolata selezione di dati statistici elaborati dal Servizio Internazionale della Popolare relativi ai mercati valutari e finanziari. La pubblicazione in particolare offre un'informativa sull'andamento dei cambi di tutte le principali divise, e oltre di molte minori, con rilevazioni a cadenza mensile. Inoltre riporta significativi prospetti e grafici sull'evoluzione dei mercati valutari in un arco temporale ancora più lungo, includendo anche una tabella che riassume 100 anni di cambi in Italia. In particolare è molto interessante la sezione degli indici Istat, che permette di calcorare il valore di acquisto della lira o dell'euro nel periodo compreso tra il 1861 e il 2022. L'opuscolo Cambi e Tassi 2023 costituisce un valido ausilio per gli operatori, ma anche per coloro che desiderino approfondire la conoscenza dei mercati valutari e finanziari. Può essere richiesto dal Servizio Internazionale della BPS oppure ritirato gratuitamente in tutte le filiali. Ora vediamo gli altri servizi. In arrivo quasi 27 milioni di euro da Regione Lombardia per valorizzare il territorio montano. Via Libera, infatti, all'individuazione delle modalità di impiego delle risorse statali del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, il FOSMIT, su proposta dall'assessore regionale alla montagna Massimo Sertori. Per i nostri territori, dichiara, i finanziamenti del FOSMIT 2023 rappresentano una grande opportunità. Le risorse serviranno per attuare iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori, nonché incentivare la crescita sostenibile e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, compresi interventi di mobilità sostenibile. Cofinanzieremo in continuità con le politiche attualmente in atto i patti territoriali, prosegue Sertori, e sosterremo azioni volte a valorizzare itinerari escursionistici e turistici, nonché la realtà dei rifugi di Lombardia, e cito qui il bando rifugi e gli impegni per la rete escursionistica lombarda con in campo anche Ersaf. Ai patti territoriali, continua l'assessore, destineremo ben 7 milioni di euro, mentre ulteriori 10 milioni e 700 mila euro saranno destinati al finanziamento di azioni volte a valorizzare itinerari escursionistici e turistici, nonché la realtà dei rifugi di Lombardia, di cui 5 milioni per l'approvazione di un nuovo bando rifugi 2024, 3 milioni destinati specificatamente a interventi di rifunzionalizzazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dei rifugi regionali, e 2 milioni e 700 mila euro per la progettazione e realizzazione di un'iniziativa volta alla valorizzazione di un itinerario della rete escursionistica lombarda di livello sovra-provinciale. Saranno finanziate inoltre azioni di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani attraverso la pubblicazione nel 2024 del bando dissesti e si procederà a incrementare ulteriormente la dotazione finanziaria del bando terrazzamenti per attribuire risorse utili a esaurire la graduatoria già cofinanziata con risorse FOSMIT del 2022. Alle opere di prevenzione del dissesto idrogeologico si prevede di destinare 7 milioni e 700 mila euro, mentre per l'incremento del bando terrazzamenti si prevede l'impiego di un milione di euro. Riprende la stagione con i primi allenamenti del 2024 per la nuova Sondrio Calcio. Il direttore sportivo Cristiano Salvadori intanto come hai visto i ragazzi appena rientrati per il primo allenamento. Allora, i ragazzi non sono ancora tutti, mancano 5-6 giocatori che si uniranno nei prossimi giorni, però li ho trovati bene. Avevano ricevuto tabelle differenziate da seguire, quindi ho visto che hanno rispettato il diktat di Tommaso Del Nero. Adesso, quale sarà il programma da qui fino alla prima partita che sarà il 14 di gennaio a Calozio Corte? Il programma è settimanalmente uguale a quello che abbiamo fatto prima della sosta. Allenamenti, ora giustamente abbiamo fatto qualche test per vedere in che condizioni si sono ripresentati, però diciamo che poi lo svolgimento è uguale allo standard. C'è voglia di riscatto dopo le due partite perse prima della pausa natalizia? Assolutamente sì, ci siamo ripresentati con la voglia di sempre, che è quella di lottare fino all'ultima giornata per poter vincere questo campionato. Io dico sempre che in una squadra forte non deve mai subentrare nulla di psicologico, perché la consapevolezza di quello che possiamo dare, che abbiamo dato fino a quando i giocatori sono stati a disposizione tutti del mister, lo abbiamo dimostrato. Purtroppo le ultime due partite, come ho detto, abbiamo pagato l'assenza di giocatori che sono difficilmente sostituibili in tutti i campionati, specialmente in questi. Momento schiaramanzia, l'anno scorso, esattamente un anno fa, si stava a meno due punti dalla prima, secondi in classifica, e poi avete vinto il campionato quest'anno? Io avrei preferito che non ci venissero annullati i gol regolari e fossimo stati noi avanti in classifica. Però al di là della battuta, l'ho detto, l'auspicio e l'ambizione è quella di vincere anche quest'anno. Non ci siamo mai nascosti, quindi non lo facciamo neanche ora al Giro di Boa. Anche questa sera, come ogni mercoledì, torna l'appuntamento con itinerari ai consueti orari. Il protagonista della puntata è il paese di Fraciscio, in Val Chiavenna con il Natale H. Bardassa. Per ora è tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con l'informazione di Unica. Grazie a tutti.